bella a tutti piccoli youtubers insignificanti come me bentornati su warcraft eravamo arrivati al capitolo 7 le rive di northrend avevamo appena finito la missione facoltativa ovvero di aiutare i compagni di muradin e adesso non so minimamente cosa fare e direi di iniziare a creare un bel esercito ricordo che la missione principale è distruggere la base di malganis perché malganis è ancora vivo intanto ci stanno venendo ad attaccare attaccate l'eroe attaccate l'eroe bisogna sempre attaccare prima l'eroe allontanati tu scappa scappa eh non l'ho salvato in tempo ok tornate qui adesso voi siete il primo gruppo voi siete il terzo gruppo cosa succede tu potenza questo e costruisci mene un'altra tu riparami il girocottero altro lavoro va bene operazione completata c'è sì mio signore sì mio signore altro lavoro d'accordo io combatto per la luce potenziamento completato anzi direi di trasferire il secondo gruppo qui perché secondo me prima di passare per il secondo gruppo dovrebbero passare per il primo quindi non ha senso che io abbia costruito queste torrette ecco qua potenziamento completato facciamo qualche altro potenziamento aspettiamo che gli archibuggieri siano stati creati li mandiamo da muradin e poi andiamo con tutti i nostri uomini ad attaccare i non morti eccoli qua li mandiamo da muradin voglio andare da muradin voglio andare a vedere pure qua che ci sta perché non avevo esplorato tutta questa zona vediamo di qua cosa ci sta ci stanno questi tizi intanto qua stanno abbuscando no 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 andate andate guarisci me lo mortal kombat bravo ok la situazione sotto controllo ho perso qualcuno qua intanto abbuscano ok che mi ha dato globo di ghiaccio aggiunge 6 danni da gelo agli attacchi dell'errore allendando i movimenti colpi dell'avversario tutti i secondi perfetto bellissimo proprio adatta a muradin ora facciamoli tornare qui facciamoli arrivare da artas e andiamo tutti insieme allegramente ad attaccare la base la base dei non morti facciamo un altro potenziamento al volo oh adesso il nostro esercito è al completo guardate qui che bestia bene andiamo eccoci andiamo ragazzuoli andiamo dai dai li stiamo devastando li stiamo devastando qua 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 curami il cavaliere su questo anzi su questo qua finite di uccidere questi dai che li devastiamo voi distruggete questo dobbiamo radere tutto al suolo dobbiamo radere tutto al suolo ragazzi tutto uccideteli uccideteli tutti non lasciate superstiti missione principale compiuta oh yeah bitch tutto a posto muradin comunque cosa ci facevi qui da qualche parte in questo deserto di ghiaccio c'è un antico portale dovrebbe portare ad una cripta segreta qui si trova una spada runica chiamata Rostmoorn siamo venuti fin qui per recuperare Frostmoorn ma più ci avviciniamo al portale maggiore diventa il numero dei non morti che incontriamo gasamento principe Arthas non abbiamo trovato tracce di Malgalis ancora non può nascondersi da sempre capitano voglio che stabilisca qui la nostra base principale si signore si signore beh ragazzi direi che anche questo episodio può finire qui mi raccomando lasciate like iscrivetevi condividete e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao